Ciao a tutti, volevo condividere alcune considerazioni con voi sull'allenamento che ho svolto ieri sera con i miei ragazzi perché è importante far vedere le proposte ma è anche importante far ascoltare e condividere con voi le considerazioni che ho fatto alla fine della mia proposta. I ragazzi sono stati molto interessati, poche distrazioni, tutto con la palla e molto movimento e voi sapete che quando c'è movimento c'è divertimento e conseguentemente c'è apprendimento. Nel Rondos abbiamo avuto 14 ragazzi e ne ho fatti 2, 5 contro 2 con 2 dentro. Se qualche ragazzino rimaneva un pochino troppo dentro naturalmente c'era il cambio automatico fra di loro, lo sanno e lo hanno fatto benissimo. Il coordinativo è andato molto liscio, una figura a croce e loro sono molto preparati su questo coordinativo perché lo facciamo spesso e mi piace molto il movimento che crea la figura. L'esercitazione è andata discretamente bene all'inizio, hanno trovato qualche difficoltà a memorizzare i passaggi perché erano 6-7 passaggi in fila e quindi magari all'inizio siamo partiti piano senza farlo a specchio, poi dopo 2-3 minuti di apprendimento sono andati benissimo e siamo riusciti a farlo a specchio mettendo anche i due portieri come vi avevo consigliato e come vi avevo detto. Quindi la palla non partiva più da qui per andare ad essere giocata sul centrocampista di sinistra ma partiva direttamente dal portiere quindi ne avevamo uno in più che stava in porta e che passava la palla al suo compagno e automaticamente poi si svolgeva l'esercitazione. Poi il situazionale. Nel situazionale io ho notato subito che i ragazzi tendevano sempre ad andare in profondità e qui sulla parte di centrocampo c'era molto poco movimento perché naturalmente creare movimento e lo scambio di posizione per loro è ancora un pochino complicato ma ci dobbiamo arrivare il prima possibile. Però dopo qualche minuto di scoperta dell'esercitazione del situazionale i ragazzi sono stati molto bravi e hanno capito che in questa zona avendo due avversari che andavano a coprire si dovevano muovere e chi aveva la palla ha capito subito che avendo una superiorità numerica qua anzi avevano una superiorità numerica in tutto il campo perché ho messo i portieri erano tre contro uno qua, quattro contro due qui e tre contro uno anche nella zona di campo più in alto. Hanno capito che muovendosi, andando a cercare spazio davano soluzione al compagno. Hanno subito capito che questa è una situazione che ci può favorire in un'uscita dal basso se loro vengono a prenderci in maniera forte, quindi ci muoviamo e andiamo a svolgere la giocata che abbiamo fatto nel tecnico. Io sono riuscito a pareggiare i numeri in questo modo, quindi avevo un due contro uno qui un tre contro uno diciamo col portiere, un due contro uno nella parte destra un due contro uno nella parte sinistra e lo stesso un tre contro uno nella parte superiore. Il mio obiettivo qual è? In altri due allenamenti mettere un terzo uomo qua di modo che non lo metto subito qui perché l'azione così parte sempre bene e poi devono trovare la soluzione solo qui nella zona di centro campo quindi avendo un nero in più loro si troveranno quattro contro tre che è una situazione più difficile ovviamente da sviluppare del quattro contro due quindi invece di essercene due liberi ce ne sarà uno solo libero da andare a cercare per andare dall'altra parte. Ho notato anche che alcuni da questa posizione qua vedendo il gioco aperto giocavano direttamente dall'altra parte quindi come dicevamo negli altri allenamenti non vanno a fare una costruzione quando non serve ma vanno a cercare la verticalizzazione se la vedono ne riconoscono. Fondamentale questa cosa da far capire ai ragazzi. E poi altra cosa che vorrò fare nell'allenamento successivo quindi nel primo metterò questa situazione qua di uno in più a centro campo nel secondo metterò due in più in questa posizione qua naturalmente me li farò prestare agli altri 2012 se magari avete numeri che non arrivano a questa numerica qui perché più lavorate in situazione simile alla partita e più sicuramente i ragazzi riconosceranno la situazione che preparano in allenamento poi in partita. E questa è la grossa difficoltà e questo è il grosso compito che ci aspetta cioè far riconoscere l'esercitazione che facciamo negli allenamenti ai ragazzi in partita. Questa trasmissione qui è molto 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 importante. Quindi avremo un 3 contro 2 qui col portiere e i due difensori un 3 contro 2 qui con un portiere e due difensori e un 4 contro 3 qui a centro campo. Poi l'obiettivo qual è? Sicuramente arrivare alla parità numerica quindi a lavorare 9 contro 9 per portare la situazione che alleno in allenamento in partita quindi il numero di giocatori che di solito loro ritrovano in partita. Questo però non deve fare l'allenamento che ho fatto ieri non deve ingannarmi la buona riuscita perché naturalmente se io già metto un avversario qui già la situazione gli si complica di tanto perché devono andare a ricercare l'uomo libero su un 4 contro 3 quindi su una superiorità numerica piccola. Però abbiamo tutto l'anno per lavorarci quindi piano piano ne metteremo uno di qua piano piano ne metteremo uno di qua. Ho ruotato i ragazzi e l'allenamento è stato svolto benissimo Quindi un grazie a loro e un arrivederci a voi al prossimo allenamento.